E' uno stronzo di 30 anni che violentava la ragazzina. Io l'ho beccato e invece di consegnarlo come si dovrebbe fare in questi casi, l'ho preso a cazzotti. E magari è per questo che ti hanno trasferito ad Aosta. Ha tutta una classificazione per le sue rotture di coglioni. Questo rompimento dei coglioni. Livello? Vicequestore Rocco Schiavone. Le cose accadono perché devono accadere. La giustizia è un concetto del tutto umano. E come le cose umane, spesso sbaglia. Ma perché ho la sensazione che lei mi nasconda qualcosa? Buono, 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 buono. Io ho solo una stanza per gli ospiti. No, ma non li deve ospitare, signore. Li deve tenere solo un po' al caldo intanto che il mio amico finiamo il lavoro al camion. Ma cosa credi di farmi paura? No, io non credo di fare paura a nessuno. Però le ho chiesto un aiuto. E lei non mi ha aiutato. Questo è molto male. Peron. Eh? Si dice Peron. Ma baffanculo. Ma baffanculo. Ma baffanculo. Ma baffanculo. Questa vita sua già di merda gliela renderò un inferno. Questa vita sua di merda gliela renderò un inferno.